Qui, tra i poveri spaventati, troviamo persone di nostra conoscenza. Chi non ha visto Don Abbondio il giorno che si sparsero tutte in una volta le notizie della calata dell'esercito, del suo avvicinarsi e dei suoi portamenti, non sa bene cosa sia impiccio e spavento. Vengono, sono 30, sono 40, sono 50.000, sono diavoli, sono ariani, sono anticristi, hanno saccheggiato Corte Nuova, hanno dato fuoco a prima luna, devastano Introbbio, Pasturo, Barsio, sono arrivati a Balabbio, domani sono qui, tali erano le voci che passavano di bocca in bocca. E insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un consultare tumultuoso, un'esitazione tra il fuggire e il restare, un radunarsi di donne, un metter mani nei capelli. Don Abbondio, risoluto di fuggire, risoluto prima di tutti e più di tutti, vedeva però in ogni strada da prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili e pericoli spaventosi. «Come fare?» esclamava. «Dove andare?» I monti, lasciando da parte la difficoltà del cammino, non erano sicuri. Già si era saputo che i lanzichenecchi vi s'arrampicavano come gatti, dove appena avessero indizio o speranza di far preda. Il lago era grosso, tirava un gran vento. Oltre di questo, la più parte dei barcaioli, temendo di essere forzati a tragittare soldati o bagagli, si erano rifugiati con le loro barche all'altra riva. Alcune poche rimaste erano poi partite stracariche di gente e, travagliate dal peso e dalla burrasca, si diceva che pericolassero ogni momento. Per portarsi lontano e fuori della strada che l'esercito aveva a percorrere, non era possibile trovarne un calesse, né un cavallo, né alcun altro mezzo. A piedi, Don Abbondio non avrebbe potuto far troppo cammino e temeva di essere raggiunto per istrada. Il territorio bergamasco non era tanto distante che le sue gambe non ce lo potessero portare in una tirata, ma si sapeva che era stato spedito in fretta da Bergamo uno squadrone di cappelletti, il qual doveva costeggiare il confine per tenere in suggezione i lanzichenecchi. E quelli erano diavoli in carne, né più né meno di questi, e facevano dalla parte loro il peggio che potevano. Il pover uomo correva, stralunato e mezzo fuori di sé, per la casa. Andava dietro a Perpetua per concertare una risoluzione con lei, ma Perpetua, affaccendata a raccogliere il meglio di casa e a nasconderlo in soffitta o per i bugigattoli, passava di corsa, affannata, preoccupata, con le mani o con le braccia piene, e rispondeva, orora finisco di mettere questa roba al sicuro e poi faremo anche noi come fanno gli altri. Don Abbondio voleva trattenerla e discutere con lei i vari partiti, ma lei, tra il da fare e la fretta e lo spavento che aveva anch'essa in corpo e la rabbia che le faceva quello del padrone, era, in tal congiuntura, meno trattabile di quel che fosse stata mai. Si ingegnano gli altri, ci ingegneremo anche noi. Mi scusi, ma non è capace che di impedire. Crede lei che anche gli altri non abbiano una pelle da salvare? Che vengono per fare la guerra a lei, i soldati? Potrebbe anche dare una mano in questi momenti, invece di venire tra i piedi a piangere, a impicciare. Con queste simili risposte si sbrigava da lui, avendo già stabilito, finita che fosse alla meglio quella tumultuaria operazione, di prenderlo per un braccio, come un ragazzo, e di strascinarlo su per una montagna. Lasciato così solo, si affacciava alla finestra, guardava, tendeva gli orecchi, e vedendo passare qualche d'uno, gridava con una voce mezza di pianto e mezza di rimprovero. Fate questa carità al vostro povero curato di cercargli qualche cavallo, qualche mulo, qualche asino. Possibile che nessuno mi voglia aiutare. Oh, che gente! Aspettatemi almeno, che possa venire anch'io con voi. Aspettate ad essere quindici o venti, da condurmi via insieme, che io non sia abbandonato. Volete lasciarmi in mande cani? Non sapete che sono luterani la più parte, che ammazzare un sacerdote l'hanno per opera meritoria. Volete lasciarmi qui a ricevere il martirio? Oh, che gente! Oh, che gente! Ma a chi diceva queste cose? Ad uomini che passavano curvi sotto il peso della loro povera roba, pensando a quella che lasciavano in casa, spingendo le loro vaccherelle, conducendosi dietro i figli, carichi anch'essi quanto potevano, e le donne con incollo, quelli che non potevano camminare. Alcuni tiravano di lungo, senza rispondere e ne guardare in su. Qualche d'uno diceva, Eh, messere, faccia anche lei come può, fortunato lei che non ha da pensare alla famiglia. S'aiuti, si ingegni. Oh, povero me! Esclamava Don Abbondio. Oh, che gente, che cuori! Non c'è carità, ognun pensa a sé, e a me nessuno vuol pensare. e tornava in cerca di Perpetua. Oh, appunto, gli disse questa, e i danari? Come faremo? Li dia a me, che andrò a sotterrarli qui, nell'orto di casa, insieme con le posate. Ma! Ma, ma, dia qui, tenga qualche soldo, per quel che può occorrere, e poi lasci fare a me. Don Abbondio, ubbidì, andò allo scrigno, cavò il suo tesoretto, e lo consegnò a Perpetua, la quale disse, vuoi a sotterrarli nell'orto, a piede del fico, e andò. Ricomparve poco dopo, con un paniere, dove c'era della munizione da bocca, e con una piccola gerla vuota, e si mise in fretta, a collocarvi nel fondo, un po' di biancheria, sua e del padrone, dicendo intanto, il breviario almeno, lo porterà lei. Ma dove andiamo? Dove vanno tutti gli altri? Prima di tutto, andremo in strada, e la sentiremo, e vedremo cosa convenga di fare. In quel momento entrò Agnese, con una gerletta sulle spalle, e in aria, di chi viene a fare una proposta importante. Agnese, risoluta anche lei, di non aspettare ospiti di quella sorte, sola in casa, come era, e con ancora un po' di quell'oro dell'innominato, era stata qualche tempo in forse, del luogo dove ritirarsi. Il residuo appunto di quegli scudi, che nei mesi della fame le avevano fatto tanto pro, era la cagion principale della sua angustia e della irresoluzione, per aver sentito essa che, nei paesi già invasi, quelli che avevano danari, si erano trovati a più terribile condizione, esposti insieme alla violenza degli stranieri e all'insidia dei paesani. Era vero che, del bene piovutole, come si dice, dal cielo, non aveva fatta la confidenza a nessuno, fuorché a Don Abbondio, dal quale andava, volta per volta, a farsi spicciolare uno scudo, lasciandogli sempre qualcosa da dare a qualche d'uno più povero di lei. Ma i danari nascosti, specialmente chi non è avvezzo a maneggiarne molti, tengono il possessore in un sospetto continuo del sospetto altrui. Ora, mentre andava anch'essa rimpiattando qua e là alla meglio ciò che non poteva portare con sé e pensava agli scudi che teneva cuciti nel busto, si rammentò che, insieme con essi, l'innominato le aveva mandate le più larghe offerte di servizi. Si rammentò le cose che aveva sentito raccontare di quel suo castello, posto in un luogo così sicuro e dove, a dispetto del padrone, non potevano arrivare se non gli uccelli e si risolvette ad andare a chiedere un asilo lassù. Pensò come potrebbe farsi conoscere da quel signore e le venne subito in mente Don Abbondio, il quale, dopo quel colloquio così fatto con l'arcivescovo, le aveva sempre fatto festa e tanto più di cuore che lo poteva senza compromettersi con nessuno e che, essendo lontani i due giovani, era anche lontano il caso che a lui venisse fatta una richiesta la quale avrebbe messa quella benevolenza a un gran cimento. Suppose che, in un tal parapiglia, il povero uomo doveva essere ancor più impicciato e più sbigottito di lei e che il partito potrebbe parer molto buono anche a lui e glielo veniva a proporre. Trovatolo con Perpetua fece la proposta a tutte e due. Che ne dite Perpetua? Domandò Don Abbondio. Dico che è un'ispirazione del cielo e che non bisogna perdere tempo e mettersi la strada tra le gambe e poi e poi e poi quando saremo là ci troveremo ben contenti. Quel signore ora si sa che non vorrebbe altro che far servizi al prossimo e sarà ben contento anche lui di ricoverarci. là sul confine e così per aria soldati non ne verrà certamente e poi e poi ci troveremo anche da mangiare che su Perimonti finita questa poca grazia di Dio e così dicendo l'accomodava nella gerla sopra la biancheria ci saremo trovati a mal partito. Convertito? È convertito davvero eh? Che c'è da dubitarne ancora? Dopo tutto quello che si sa dopo quello che anche lei ha veduto e se andassimo a metterci in gabbia? Che gabbia! Con tutti i codesti i suoi casi mi scusi non si verrebbe mai a una conclusione brava Agnese v'è proprio venuto un buon pensiero e messa la gerla su un tavolino passò le braccia nelle cigne e la prese sulle spalle. Non si potrebbe disse Don Abbondio trovare qualche uomo che venisse con noi per far la scorta al suo curato se incontrassimo qualche birbone che purtroppo ce ne ingiro parecchi che aiuto mi avete a dar voi altre un'altra per perdere tempo esclamò Perpetua andarlo a cercare ora l'uomo che ognuno ha da pensare a fatti suoi animo vada a prendere il breviario e il cappello e andiamo Don Abbondio andò tornò di lì a un momento col breviario sotto il braccio col cappello in capo e col suo bordone in mano e uscirono tutte e tre per un usciolino che metteva sulla piazzetta Perpetua richiuse più per non trascurare una formalità che per fede che avesse in quella toppa e in quei battenti e mise la chiave in tasca Don Abbondio diede nel passare un'occhiata alla chiesa e disse tra i denti al popolo tocca custodirla che serve a lui se hanno un po' di cuore per la loro chiesa ci penseranno se poi non hanno cuore tal sia di loro presero per i campi zitti zitti pensando ognuno a casi suoi e guardandosi intorno specialmente Don Abbondio se apparisse qualche figura sospetta qualcosa di straordinario non si incontrava nessuno la gente era o nelle case a guardarle a far fagotto a nascondere o per le strade che conducevano direttamente all'alture dopo aver sospirato e risospirato e poi lasciato scappare qualche interiezione Don Abbondio cominciò a brontolare più di seguito se la prendeva col duca di Nevers che avrebbe potuto stare in Francia a godersela a fare il principe e voleva essere duca di Mantova a dispetto del mondo con l'imperatore che avrebbe dovuto aver giudizio per gli altri lasciar correre l'acqua all'ingiù non istar su tutti i puntigli che finalmente lui sarebbe sempre stato l'imperatore fosse duca di Mantova Tizio o Sempronio l'aveva principalmente col governatore a cui sarebbe toccato a far di tutto per tenere lontani i flagelli dal paese ed era lui che ce gli attirava tutto per il gusto di far la guerra bisognerebbe diceva che fossero qui quei signori a vedere a provare che gusto è hanno da rendere un bel conto ma intanto ne va di mezzo chi non ci ha colpa lasci un postar codesta gente che già non sono quelli che ci verranno a aiutare diceva Perpetua codeste mi scusi sono di quelle sue solite chiacchiere che non concludo nulla piuttosto quel che mi dà noia cosa c'è Perpetua la quale in quel pezzo di strada aveva pensato con comodo al nascondimento fatto in furia cominciò a lamentarsi d'aver dimenticata la tal cosa d'aver mal riposta la tal altra qui d'aver lasciata una traccia che poteva guidare i ladroni là brava disse don Abbondio ormai sicuro della vita quanto bastava per poter angustiarsi della roba brava così avete fatto dove avevate la testa come esclamò Perpetua fermandosi un momento su due piedi e mettendo i pugni su fianchi in quella maniera che la gerla glielo permetteva come verrà ora a farmi codesti rimproveri quando era lei che me la faceva andar via la testa invece di aiutarmi e farmi coraggio ho pensato forse più alla roba di casa che alla mia non ho avuto chi mi desse una mano ho dovuto far da Marta e da Maddalena se qualcosa andrà male non so cosa mi dire ho fatto anche più del mio dovere Agnese interrompeva questi contrasti entrando anche lei a parlare dei suoi guai e non si rammaricava tanto dell'incomodo e del danno quanto di veder svanita la speranza di riabbracciar presto la sua Lucia che se vi rammentate era appunto quell'autunno sul quale avevano fatto assegnamento né era da supporre che donna Prasede volesse venire a villeggiare da quelle parti in tali circostanze piuttosto ne sarebbe partita se ci si fosse trovata come facevano tutti gli altri villeggianti la vista dei luoghi rendeva ancor più vivi quei pensieri d'Agnese e più pungente il suo dispiacere usciti da sentieri avevano presa la strada pubblica quella medesima per cui la povera donna era venuta riconducendo per così poco tempo a casa la figlia dopo aver soggiornato con lei in casa del sarto e già si vedeva il paese andremo bene a salutare quella brava gente disse Agnese e anche a riposare un pochino che di questa gerla io comincio ad averne abbastanza e poi per mangiare un boccone disse perpetua compatto di non perder tempo che non siamo in viaggio per divertimento concluse don Abbondio furono ricevuti a braccia aperte e veduti con gran piacere rammentavano una buona azione fate del bene a quanti più potete dice qui il nostro autore e vi seguirà tanto più spesso di incontrare dei visi che vi mettano allegria Agnese nell'abbracciare la buona donna diede in un dirotto pianto che le fu un gran sollievo e rispondeva con singhiozzi alle domande che quella e il marito le facevano di Lucia sta meglio di noi disse don Abbondio è a Milano fuor dei pericoli lontana da queste diavolerie scappano il signor curato e la compagnia disse il sarto sicuro risposero a una voce il padrone e la serva li compatisco siamo incamminati disse don Abbondio al castello di l'hanno pensata bene sicuri come in chiesa e qui non hanno paura disse don Abbondio dirò signor curato propriamente in ospitazione come lei sa che si dice a parlar bene qui non dovrebbero venire coloro siamo troppo fuori della loro strada grazie al cielo al più al più qualche scappata che Dio non voglia ma in ogni caso c'è tempo sanno a sentir prima altre notizie da poveri paesi dove anderanno a fermarsi si concluse di star lì un poco a prender fiato e siccome era l'ora del desinare signori disse il sarto devono onorare la mia povera tavola alla buona ci sarà un piatto di buon viso perpetua disse ad aver con sé qualcosa da rompere il digiuno dopo un po' di cerimonie da una parte e dall'altra si venne a patti d'accozzar come si dice il pentolino e di desinare in compagnia i ragazzi si erano messi con gran festa intorno ad Agnese loro amica vecchia presto presto il sarto ordinò a una bambina quella che aveva portato quel boccone a Maria Vedova chissà se ve ne rammentate più che andasse a diricciar quattro castagne e primaticce che erano riposte in un cantuccio e le mettesse a arrostire e tu disse a un ragazzo va nell'orto a dare una scossa al pesco da farne cadere quattro e portale qui tutte ve e tu disse a un altro va sul fico a coglierne quattro dei più maturi già lo conoscete anche troppo quel mestiere lui andò a spillare una sua botticina la donna a prendere un po' di biancheria da tavola Perpetua cavò fuori le provvisioni s'apparecchiò un tovagliolo e un piatto di maiolica al posto d'onore per Don Abbondio con una posata che Perpetua aveva nella gerla si misero a tavola e desinarono se non con grande allegria almeno con molta più che nessuno dei commensali si fosse aspettato d'averne in quella giornata cosa ne dice signor curato ad uno scombussolamento di questa sorte disse il sarto mi par di leggere la storia dei mori in Francia cosa devo dire mi doveva cascare addosso anche questa però hanno scelto un buon ricovero riprese quello chi diavolo ha a andarla su per forza e troveranno compagnia che già si è sentito che ci si sia rifugiata molta gente che ce ne arrivi tuttora voglio sperare disse Don Abbondio che saremo ben accolti lo conosco quel bravo signore e quando ho avuto un'altra volta l'onore di trovarmi con lui fu così compito e a me disse Agnese mi ha fatto dire dal signor monsignor illustrissimo che quando avessi bisogno di qualcosa bastava che andassi da lui gran bella conversione riprese Don Abbondio e si mantiene ne è vero si mantiene il sarto si mise a parlare alla distesa della santa vita dell'innominato e come dall'essere il flagello dei contorni ne era divenuto l'esempio e il benefattore e tutta quella gente che teneva con sé tutta quella servitù riprese Don Abbondio il quale n'aveva più di una volta sentito dire qualcosa ma non era mai quieto abbastanza sfrattati la più parte riprese il sarto e quelli che sono rimasti hanno mutato sistema ma come insomma è diventato quel castello una tebaide lei le sa queste cose entrò poi a parlare con Agnese della visita del cardinale grand'uomo diceva grand'uomo peccato che sia passato di qui così in furia che non ho neanche potuto fargli un po' d'onore quanto sarei contento di potergli parlare un'altra volta un po' più concomodo alzati poi da tavola le fece osservare una stampa rappresentante il cardinale che teneva attaccata un battente d'uscio in venerazione del personaggio e anche per poter dire a chiunque capitasse che non era somigliante giacché lui aveva potuto esaminare da vicino e concomodo il cardinale in persona in quella medesima stanza l'hanno voluto far lui con questa cosa qui disse Agnese nel vestito gli somiglia ma n'è vero che non somiglia disse il sarto lo dico sempre anch'io noi non ci inganniamo ma se non altro c'è sotto il suo nome è una memoria don Abbondio faceva fretta il sarto si impegnò di trovare un baroccio che li conducesse a piede la salita n'andò subito in cerca e poco dopo tornò a dire che arrivava si voltò poi a don Abbondio e gli disse signor curato se mai desiderasse di portarla su qualche libro per passare il tempo da povero uomo posso servirla che anch'io mi diverto un po' a leggere cose non da par suo libri in volgare ma però grazie grazie rispose don Abbondio sono circostanze che si ha appena testa ad occuparsi di quel che è di precetto mentre si fanno e si ricusano ringraziamenti e si barattano saluti e buoni auguri inviti e promesse di un'altra fermata al ritorno il baroccio è arrivato davanti all'uscio di strada ci mettono le gerle salgono su e principiano con un po' più d'agio e di tranquillità d'animo la seconda metà del viaggio il sarto aveva detto la verità a don Abbondio intorno all'innominato questo dal giorno che l'abbiamo lasciato aveva sempre continuato a far ciò che allora si era proposto compensare danni chieder pace soccorrer poveri sempre del bene insomma secondo l'occasione quel coraggio che altre volte aveva mostrato nell'offendere e nel difendersi ora lo mostrava nel non fare nell'una nell'altra cosa andava sempre solo e senza armi disposto a tutto quello che gli potesse accadere dopo tante violenze commesse e persuaso che sarebbe commetterne una nuova l'usare la forza in difesa di chi era debitore di tanto e a tanti persuaso che ogni male che gli venisse fatto sarebbe un'ingiuria riguardo a Dio ma riguardo a Lui una giusta retribuzione e che dell'ingiuria lui meno d'ogni altro aveva diritto di farsi punitore con tutto ciò era rimasto non meno inviolato di quando teneva armate per la sua sicurezza tante braccia e il suo la rimembranza dell'antica ferocia e la vista della mansuetudine presente una che doveva aver lasciati tanti desideri di vendetta l'altra che la rendeva tanto agevole cospiravano invece a procacciargli e a mantenergli un'ammirazione che gli serviva principalmente di salvaguardia era quell'uomo che nessuno aveva potuto umiliare e che si era umiliato da sé i rancori irritati altre volte dal suo disprezzo e dalla paura degli altri si dileguavano ora davanti a quella nuova umiltà gli offesi avevano ottenuta contro ogni aspettativa e senza pericolo una soddisfazione che non avrebbero potuta promettersi dalla più fortunata vendetta la soddisfazione di vedere un taluomo pentito dei suoi torti e partecipe per dir così della loro indegnazione molti il cui dispiacere più amaro e più intenso era stato per molti anni di non veder probabilità di trovarsi in nessun caso più forti di colui per ricattarsi di qualche gran torto incontrandolo poi solo disarmato e in atto di chi non farebbe resistenza non si erano sentiti altro impulso che di fargli dimostrazioni d'onore in quell'abbassamento volontario la sua presenza e il suo contegno avevano acquistato senza che lui lo sapesse un non so che di più alto e di più nobile perché ci si vedeva ancora meglio di prima la non curanza d'ogni pericolo gli odi anche i più rozzi e rabbiosi si sentivano come legati e tenuti in rispetto della venerazione pubblica per l'uomo penitente e benefico questa era tale che spesso quell'uomo si trovava impicciato a schermirsi dalle dimostrazioni che gliene venivano fatte e doveva stare attento a non lasciare troppo trasparire nel volto e negli atti il sentimento interno di compunzione a non abbassarsi troppo per non essere troppo esaltato si era scelto nella chiesa l'ultimo luogo e non c'era pericolo che nessuno glielo prendesse sarebbe stato come usurpare un posto d'onore offender poi quell'uomo o anche trattarlo con poco riguardo poteva parere non tanto un'insolenza e un'aviltà quanto un sacrilegio e quelli stessi a cui questo sentimento degli altri poteva servir di ritegno ne partecipavano anche loro più o meno queste medesime ed altre cagioni allontanavano pure da lui le vendette della forza pubblica e gli procuravano anche da questa parte la sicurezza della quale non si dava pensiero il grado e le parentele che in ogni tempo gli erano state di qualche difesa tanto più valevano per lui ora che a quel nome già illustre e infame andava aggiunta la lode di una condotta esemplare la gloria della conversione i magistrati e i grandi si erano rallegrati di questa pubblicamente come il popolo e sarebbe parso strano l'infierire contro chi era stato soggetto di tante congratulazioni oltre di ciò un potere occupato in una guerra perpetua e spesso infelice contro ribellioni vive e rinascenti poteva trovarsi abbastanza contento di essere liberato dalla più indomabile e molesta per non andare a cercare altro tanto più che quella conversione produceva riparazioni che non era avvezzo ad ottenere e nemmeno a richiedere tormentare un santo non pareva un buon mezzo di cancellare la vergogna di non aver saputo fare stare a dovere un facino roso e l'esempio che si fosse dato col punirlo non avrebbe potuto avere altro effetto che distornare i suoi simili dal divenire inoffensivi probabilmente anche la parte che il cardinal Federigo aveva avuta nella conversione e il suo nome associato a quello del convertito servivano a questo come di uno scudo sacro e in quello stato di cose e di idee in quelle singolari relazioni dell'autorità spirituale e del potere civile che erano così spesso alle prese tra loro senza mirar mai a distruggersi anzi mischiando sempre alle ostilità atti di riconoscimento e proteste di deferenza e che spesso pure andavano di conserva a un fine comune senza far mai pace potè parere in certa maniera che la riconciliazione della prima portasse con sé l'oblivione se non la soluzione del secondo quando quella si era sola adoperata a produrre un effetto voluto da tutte e due così quell'uomo sul quale se fosse caduto sarebbero corsi a gara grandi e piccoli a calpestarlo messosi volontariamente a terra veniva risparmiato da tutti e inchinato da molti è vero che erano anche molti a cui quella strepitosa mutazione dovette far tutt'altro che piacere tanti esecutori stipendiati di delitti tanti compagni nel delitto che perdevano una così gran forza sulla quale erano avvezzi a fare assegnamento che anche si trovavano a un tratto rotti i fili di trame ordite da un pezzo nel momento forse che aspettavano la nuova dell'esecuzione ma già abbiamo veduto quali diversi sentimenti quella conversione facesse nascere negli sgherri che si trovavano allora con lui e che la sentirono annunziare dalla sua bocca stupore dolore abbattimento stizza un po' di tutto fuorché disprezzo né odio lo stesso accadde agli altri che teneva sparsi in diversi posti lo stesso a complici di più alto affare quando riseppero la terribile nuova e a tutti per le cagioni medesime molto odio come trovo nel luogo altrove citato del ripamonti ne venne piuttosto al cardinal federigo riguardavan questo come uno che si era mischiato nei loro affari per guastarli l'innominato aveva voluto salvar l'anima sua nessuno aveva ragion di lagnarsene di mano in mano poi la più parte degli sgherri di casa non potendo accomodarsi alla nuova disciplina né vedendo probabilità che s'avesse a mutare se ne erano andati chi avrà cercato altro padrone e forse anche tra gli antichi amici di quello che lasciava chi si sarà arrolato in qualche terzo come allora dicevano di Spagna o di Mantova o di qualche altra parte belligerante chi si sarà messo alla strada per fare la guerra a minuto e per conto suo chi si sarà anche contentato di andare birboneggiando in libertà e il simile avranno fatto quegli altri che stavano prima a suoi ordini in diversi paesi di quelli poi che si erano potuti avvezzare al nuovo tenor di vita o che lo avevano abbracciato volentieri i più nativi della valle erano tornati ai campi o ai mestieri imparati nella prima età e poi abbandonati i forestieri erano rimasti nel castello come servitori gli uni e gli altri quasi ribenedetti nello stesso tempo che il loro padrone se la passavano al par di lui senza fare né ricever torti inermi e rispettati ma quando al calar delle bande alle manne alcuni fuggiaschi di paesi invasi o minacciati capitarono su al castello a chiedere ricovero l'innominato tutto contento che quelle sue mura fossero cercate come asilo da deboli che per tanto tempo le avevano guardate da lontano come un enorme spauracchio accolse quegli sbandati con espressioni piuttosto di riconoscenza che di cortesia fece sparger la voce che la sua casa sarebbe aperta a chiunque ci si volesse rifugiare e pensò subito a mettere non solo questa ma anche la valle in istato di difesa se mai lanzichenecchi o cappelletti volessero provarsi di venirci a far delle loro radunò i servitori che gli erano rimasti pochi e valenti come i versi di torti fece loro una parlata sulla buona occasione che Dio dava a loro e a lui di impiegarsi una volta in aiuto del prossimo che aveva intanto oppresso e spaventato e con quel tono naturale di comando che esprimeva la certezza dell'ubbidienza annunziò loro in generale ciò che intendeva che facessero e soprattutto prescrisse come dovessero contenersi perché la gente che veniva a ricoverarsi lassù non vedesse in loro che amici e difensori fece poi portar giù da una stanza a tetto larmi da fuoco da taglio in asta che da un pezzo stavano lì ammucchiate e gliele distribuì fece dire a suoi contadini e affittuari della valle che chiunque si sentiva venisse con armi al castello a chi non aveva ne diede scelse alcuni che fossero come uffiziali e avessero altri sotto il loro comando assegnò i posti alle entrature e in altri luoghi della valle sulla salita alle porte del castello stabilì l'ore e i modi di dar la muta come in un campo o come già si era costumato in quel castello medesimo nei tempi della sua vita disperata in un canto di quella stanza a tetto c'erano in disparte larmi che lui solo aveva portate quella sua famosa carabina moschetti spade spadoni pistole coltellacci pugnali per terra o appoggiati al muro nessuno dei servitori le toccò ma concertarono di domandare al padrone quali voleva che gli fossero portate nessuna rispose e fosse voto fosse proposito restò sempre disarmato alla testa di quella specie di guarnigione nello stesso tempo aveva messo in moto altri uomini e donne di servizio o suoi dipendenti a prepararne il castello alloggio a quante più persone fosse possibile a rizzar letti a disporre sacconi e strapunti nelle stanze nelle sale che diventavano dormitori e aveva dato ordine di far venire provisioni abbondanti per rispesare gli ospiti che Dio gli manderebbe e i quali infatti andavano crescendo di giorno in giorno lui intanto non istava mai fermo dentro e fuori del castello su e giù per la salita in giro per la valle a stabilire a rinforzare a visitare posti a vedere a farsi vedere a mettere e a tenere in regola con le parole con gli occhi con la presenza in casa per la strada faceva accoglienza a quelli che arrivavano e tutti o lo avessero già visto o lo vedessero per la prima volta lo guardavano estatici dimenticando un momento i guai e i timori che gli avevano spinti lassù e si voltavano ancora a guardarlo quando staccatosi da loro seguitava la sua strada a